Ma non avete ancora pensato al nome della squadra? Ma perché ci serve un nome? E se no come vi presentano al giorno della gara? Ho un'idea! Le ballene danzanti! No! Le ballene rock and roll! No! Avete un problema con le ballene? Ma sì, nel mondo è pieno di animali! Tipo? Un dolcino! No, ci sono le cose di dolceforti, tipo non lo so! Ce l'ho! Le dolcissime! Oh, fantastico! Figo! Ma ci pensate in quella piscina? Dolcissime! 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 Dolcissime!